L'ombra dell'Andrangheta si allunga anche sul Valdarno a Retino. La max inchiesta dei carabinieri e della DDA di Firenze, che con 23 arresti ha stroncato più attività illecite riconducibili alla criminalità organizzata, ha toccato infatti anche la provincia di Arezzo, sfiorando imprenditori eccellenti ed aziende altrettanto note. E' infatti a Bucine che opera la Le Rose SRL, società titolare di un impianto di riciclaggio di inerti, adesso finita sotto sequestro. Le indagini hanno portato in carcere o ai domiciliari Francesco, Emanuele Rose, padre e figlio, entrambi domiciliati a Pergine, titolari dell'omonimo impianto di smaltimento rifiuti di Levane, secondo l'accusa vicino al clan Grande Aracri. Ai domiciliari è finita anche Anna Maria Faragò, moglie e madre dei due. Il quadro è quello della gestione degli scarti della lavorazione del cuoio, che venivano classificati falsamente come rifiuti non pericolosi e lavorati negli impianti delle Rose a Levane e Pontedera. Le manette scattano a pochi giorni di distanza dai drammatici rughi che avevano colpito alcuni capannoni industriali di Levane, aziende che si trovano a poche centinaia di metri dall'impianto delle Rose. Una storia che lambisce poi anche un ente pubblico a retino, il consorzio di bonifica Alto Valdarno. Si parlerebbe di legami di comodo con questo ente per l'assegnazione di lavori diretti, su cui sono ancora in corso approfondimenti investigativi.